No! No Tapio, no! Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo showcase, la saga continua è giunta alla parte 2 della distruzione di Tapio, raga. Ora, abbiamo anche i buff di un certo Broly Free2Play Zenkai, raga, ma di cosa stiamo parlando? Brava Bandai, brava! Continua a rompere il tuo gioco dando baff a personaggi che non ne hanno minimamente bisogno perché sono già pazzurdi sgravati. Quindi andiamo a farci letteralmente odiare in PvP con la potenza del buon Tapio. Prima di cominciare però vi chiedo gentilmente come al solito un like sulla fiducia per il supporto e dopo di che, raga, il primo febbraio sarà il secondo anniversario non di Legends, quello c'è già stato, ma del mio canale, del mio bellissimo canale. E sapete cosa vorrei tanto? Vorrei arrivare ai 25.000 per quel giorno, quindi, conto su di voi, raga, rendetemi un Majin felice. Sigla! Più 25% per Strike Attack, più 20% di Blast Attack, più 25% di Strike Defense e più 20% di Blast Defense. Ragazzi, raga, questo Tapio non ce lo butta giù nemmeno un Broly 14 stelle in modalità Goresh. Ma lasciate proprio perdere, questo è il team dove l'ho giocato. Bojack è arrivato in modalità Goresh nel frattempo, dopo di che, come grossa aggiunta, appunto, c'è l'affiancamento di questo Broly Zenkai rispetto allo showcase precedente. E, 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 mostriamo anche gli Equip. L'abbiamo equipaggiato alla grande, ragazzi, siamo smenati praticamente gli Equip migliori per il danno puro da Strike su questo God Tapion. Quindi, c'è un grosso peso che grava su di te, Tapion, da parte di tutta la community italiana. Non devi deludere, bro, non devi deludere. Andiamo in PvP, raga. Anzi, scusate, l'analisi di Main Ability non si pesca l'Ultimate, via. Siamo contro un team female tenerissimo, raga. Ok, ok, ok. Ti blocco con Broly. Vediamo se entra la sua Kefla. No. Va bene. Questa è carne da macello per Tapion. È carne da macello per Tapion. Ok. Altra carne da macello per Tapion, raga. Suona, suona, Mozart. Vai, vai, non ti facciamo manco trasformare, 21. Ok. Partita. È bloccata. Nice. Ah, le due stelline si sentono. Tapion. Tapion, Tapion, Tapion. Tapion ha danno maggiorato sulle female. Rush di Tapion. Grande Tapion, grande Tapion, che fai forfettare. Ma chi sei? Ma chi sei? Ok, prossimo. Team Saiyan Godki. Godki, sì. Ok, ok, ok. Partenza mega aggressive di quel Goku Zenkai. Metal cura. Pensaci tu, bro. Ok, togliamolo subito, in quanto mi servirà sempre appena entrerà quel Goku blu. Una suonatina per Tapion. Perché non mi hai fatto il Vanish, maledetto Tapion? Ok. Va bene. Va bene, l'abbiamo preso. Danni pazzi, danni pazzi, raga. Guardate qua, i super buff di Broly. Cosa gli fanno combinare. Tapion, Tapion, quanto sei forte. Laseriamo quel Goku Kaioken. Ok, bro. Bravo, 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 bravo. Ok, buona attesa. Va bene. Se la piglia Broly questa. Distruzione carte. Mi demolisce le tre sfere mancanti a Rising. No buono. Ok. Bene, full HP. Perfetto, cover change. Spezza carte. Oh, baby. T'ho preso, Kanaranzu Katsu. Vai, vai, Tapione. Oh, Tapion. Meno uno, bro. BB. Metalcura qua ci serve come il pane. Anche tu vai bene per pigliarti questa. Anche tu vai più che bene per pigliartela. Pam, pam, pam. Ti vedo un po' rosso, Goku. Ok. Volevo farlo entrare e mettere una verde. Non so cosa abbia cliccato. Ok, questa non ci voleva. Perfetto. Ok, 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 ok. Preso. Raga, mi spiace. Non avete visto la Legendary Finish. La Legendary Finish di Tapion. Ma eravamo un attimo in difficoltà. Prossimo. Team Fusion. Il team dei meme. Ok, ok, ok. Non una buona partenza. Ma ci siamo abituati, raga. No problem. Sì, vai. Picchia, Vegito. Oh, questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Ok, tankeggiamo con Metal Cura. Zamasu. Eccoci qua che partiamo in combo, my bro. Vai, vai. Una bella suonatina all'Ocarina. Entra Kefla. Che problema c'è? Guardate qua i danni da Blast. Sembra quasi un Blaster, raga, questo personaggio. Ci sei, bro. Ok. Non ero convinto. Zamasu. Eccolo, eccolo. Ok. No. Bene. Bloccato. Bloccato giusto in tempo. Vegito, non ti temo. Guardate la fine che fa questo meme di un Vegito. Vai, Tapion. Ah, hai paura di perdertelo. Raga, continuano a zeccarmi in Rising Rush. Giuro, non so cosa scegliere. È sempre a Strike che mi azzeccano. Ok, stavolta sarebbe stata la Blast. Bene. Kefla andata. Un grosso problema in meno. Un grosso meme problema in meno. Guarda qua. Paura, eh? No. Buono, buono, buono. Scherzavo, scherzavo. Ehi. Dentro Broly. Non lo so. Non lo so. Sì. Nani. Oh, questo è uno buono. Ok. Ok. Ah, temevi di perdertelo, eh? Ehi. Got it. Vai, vai. Fallo roteare come il cavernicolo che sei. Sbram. Tapion. Sam. Non si può battere Tapion. Hai capito, Dani? I tuoi fusion meme. Prossimo. Ok, ok, ok. Team Kakarot. Buono. Due rossi. Perfetto. Preso. Eccolo qua che mi spezza la combo. Ah, speravo attacchasse e facesse qualcosa. Nane. Ok. Ok. Ok, bloccati subito. Vai Broly. Attacca. Attacca diretto. No, no, no. Ok, sta saltando. Baitiamolo. Oh, clash. Due ultra istinto. Oh, yeah. Tapion. Non si scherza con My Bro Tapion. Droppino. Perfetto. Tu ru 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 ru. Ti dico fermate. Ti dico fermate. Ti dico fermate Tapion. Ok, ok, ok. Questa farà male al buon Kakarot. Abbastanza. Abbastanza. Potevo aspettarmi un po' di meglio, onesto. Cardero Speed. Dov'è il tuo Cardero Spam? E l'ha tolto pure lui. Ecco perché non c'era. Oh, eccola qua. La sua magica carta verde. Non si vedeva da un po'. Broly, devi incassare tutto tu. Troppo forse. Sì. Ma, ma, super furbo, raga. Tapion. Prendite la testa a sta cosa brutta. Sti pugni di Kenshiro. Lo so che la tanki senza problemi Tapion. Mamma mia, come se non t'avesse fatto danno proprio. Vai. No, ha switchato ancora. Bloccati, bloccati. Tardi. Ok, c'ha sempre un vanish, sta persona. Non capisco come sia possibile. Ma, ok. Oh, e adesso? E adesso? Cosa racconti, Tapion? Cosa gli racconti? Ah, ciao Goku. Ciao Gokui. È una costante, raga. È una costante che mi prendano. Ok, perfetto. Bram. Prossimo mash. Ultimo mash. Team Movie. E c'è un gogetta giallo da counterare per il nostro Tapion. Ok. Va bene, ha già switchato su Broly. Via, via, via. Ok. Va da retro, Bro. Tapion, tankeggia, tankeggia. Chill, Broly. Ok, pure la carta verde? No. Anzi, ti blocco la possibilità di usarle. Nice. Ehi, che danni. Che danni, raga. Sì. Bene, grazie per non avermi preso il Vanish. Ok. Strana giocata. Bene. Nice. Vai, super Broly. Ok, switchiamo comunque. E andiamo così. Anzi, prima Blast. Va bene. e Ultimate. Entra con Ceta Blu. Sì. Che mescola le carte. Ok, blocchiamogli le verdi. Vai, vai Tapion. Vai Tapion. Come osi, come osi metterti sulla mia strada. Blu. Blu, perché la Strike me la azzeccano. La Blast pure. Blu. Oh, bene. Finally. Bravo Tapion, bravo Tapion. No occupati di questo meme di un Broly Zenkai 7. e fai vedere chi è il vero rosso del movie. Ok. Addio Gogeta Blu. Resta solo Broly. Resta Broly. Rushami. Sì, sì, sì. Che resta Tapion. Bello libero. Senza temere Rising Rush. Blast. 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 No, no. No. No, ma per una volta che non voglio azzeccarla io. Per una volta che non la voglio azzeccare io. Va bene. Chiudiamo comunque con Tapion. Non c'è molto a dire, raga, su Tapion. Questa è la parte 2 della saga, della leggenda, del leggendariro. Di colui che si trova in tutti i nostri box. Ma che in veramente pochi meritano d'avere. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti riguardo al best PG in the game. Io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.